Mal tempo in Lombardia, nessun problema per l'Adda. L'ondata di perturbazioni atlantiche che da giorni sta interessando tutto il nord Italia non preoccupa più di tanto il fiume che attraversa il Lodigiano. L'Adda, maestosa come non mai, ma il suo livello resta ben al di sotto delle soglie di pericolo. Anche il reticolo minore, fatto di decine di roggie canali che si innervano nei campi, resta ancora il sostanziale periodo di asciutta come avviene sempre durante la stagione invernale. Se altrove le piogge incessanti stanno creando problemi a non finire, in montagna si susseguono le frane mentre in Veneto i fiumi esondano, nella bassa padana l'acqua sta semplicemente affiorando nelle campagne a falda alta come il parco agricolo del Pulignano a Lodi. Qui si ha un pallido esempio di quella palude che in un lontano passato circondava tutta la città spingendosi nel cremasco nella zona della Geradadda, nella bassa bergamasca. La protezione civile comunque sta monitorando la situazione anche se non esistono condizioni critiche. C'è chi, incurante dei divieti, va a far visita alla motonave del consorzio navigare l'Adda ancorata all'imbarcadero dell'Isola Bella, mentre resta in sofferenza idrica, il laghetto del Faro, al Belgiartino, sede nel periodo destino delle gare di pesca organizzate per i pierini dall'Associazione Pescatori Dilettanti.